Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video Allora, qui abbiamo un sacchetto di reoni Siamo andati in centro a comprare io e Babbo qualche cosa E mi hanno fatto una sorpresa Ma vediamo Allora, Olivia Olivia, Lego Friends Possiamo fare tutte le cose Allora, Stefani, Andrea, Emma, Olivia, Mia Possiamo bere il tè E giocare anche con l'iPhone Oppure possiamo fare il robot Possiamo E questa è Olivia Possiamo fare bla 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 Questa è Olivia in persona Poi qui bisogna rompere e buttare via Poi qui ci dice ecco come è Olivia Ecco come si fa E qui c'è il librettino Ma poi c'è un'altra cosa Mi sa Visto che è ancora pesante Che è? Allora, ragazzi Mi sa che partiamo da questo piccolo Allora, andiamo ad aprirlo Che è facile E mi sa che è un librettino Perché vedo già le pagine No, è un diario È un diario bellissimo Mi sa Sì, è un diario Oh, con gli orzacchiotti Con gli orzacchiotti E vediamo come Allora, così si apre E poi si Bellino Allora, qui ci sono Un coniglietto e un orzacchiotto Callow E qui c'è scritto un altro Callow Che c'è Sul Sulla telecamera E su iPhone Allora